Raffaele Gaito Iniziate tra questi fatti Come diceva il professore in precedenza Noi facciamo una delle nostre primissime presentazioni Nel 2011 Proprio alla prima edizione di questo evento Qui all'università di Salerno Cosa voglio presentarvi In questa occasione In realtà Non vi racconterò la nostra storia Di quanto è stato bello E come succede adesso Se sta andando bene o meno Io voglio parlarvi solo delle cose che abbiamo sbagliato E quindi degli errori che abbiamo combinato Durante questi tre anni E degli errori che poi vedrete Nella vostra esperienza In quello che leggerete o sulla vostra pelle Degli errori che poi in realtà fanno più o meno Tutti gli start-up Sono praticamente quasi dei pattern Delle cose che tutti quanti sbagliano E quindi cercherò di farvi vedere Questi errori che abbiamo fatto Naturalmente non vi racconterò solo gli errori Ma cercherò anche di darvi magari qualche indizio Per capire che state facendo Qualcuno di quegli errori E quindi se posso magari cerco di evitarlo a voi E di rendervi un po' la vita più facile Durante questa esperienza da start-upper Non so adesso se qualcuno di voi Già sta facendo qualcosa Se avete idea O se siete semplicemente appassionati Coprirò comunque tutte le fasi di vita di una start-up E volevo iniziare dicendovi che Fare start-up è più o meno così Quindi mettiamo in chiaro subito questa cosa Non è un gioco Ok? Non è una moda Anche se potrebbe sembrare Visto l'aico che c'è stato negli ultimi anni In realtà è un'esperienza fighissima Molto eccitante Che però a volte ti può far prendere anche botte di quel tipo È una cosa molto seria Cioè non dimentichiamoci che Si tratta di fare impresa Ok? Quindi chi è qui dentro E ha questa intenzione di voler fare start-up In realtà significa che Ha l'intenzione di fare l'imprenditore Vuole avviare un'azienda E quindi proprio perché Si possono commettere degli errori molto grossi Si possono prendere anche badosse di quel tipo Che possono essere delle cose stupide Possono essere delle delusioni Fino ad arrivare al vero e proprio fallimento Della propria azienda Per qualche errore più grave Quindi vediamo quali sono questi dieci errori Che volevo portarvi Beh, il più classico degli errori Che viene fatto all'inizio È quello di innamorarsi della propria idea Innamorarsi della propria idea Cosa significa? Significa che appena ci viene in mente una cosa Pensiamo che sia un'idea brillante Pensiamo che questa cosa ci farà diventare Il nuovo Steve Jobs Che troppo manco tutto il bel Entriamo subito nella modalità Nella quale vogliamo proteggere quest'idea E iniziamo a dire frasi di questo tipo E quindi non posso parlare della mia idea Altrimenti me la rubano Questa è una cosa che capita neanche a me E che sento dirmi in continuazione Quando parlo con aspiranti start-up Cosa c'è di sbagliato in un approccio di questo tipo? Quindi innamorarsi troppo della propria idea E di evitare di parlarne con altri? Beh, l'idea deve essere discussa fin dall'inizio E' importante avere feedback fin dall'inizio E' importante confrontarsi con gli altri fin dall'inizio Perché finché non si parla con qualcun altro della propria idea In realtà non si riesce a validarla Non si riesce a capire se quello che abbiamo in mente È potenzialmente una grande idea sulla quale fare un'azienda Oppure magari è qualcosa di assurdo, di ridicolo Di non realizzabile E una parentesi veloce Perché leggevo proprio ieri Un'intervista al fondatore di Waits Il navigatore social acquisito da Google qualche tempo fa Il fondatore di Waits ha detto Riguardo a questa cosa qualche giorno fa Gli start-up non dovrebbero innamorarsi della soluzione Dovrebbero innamorarsi del problema Ovvero voi trovate un problema importante E avete avuto un'idea di trovare una soluzione Bene, dovete essere pronti a cambiare la soluzione Se necessario durante il vostro percorso Rimanendo legati a qual è il problema che andate a risolvere Secondo errore tipico Sbattuto di chi è all'inizio Sbagliare il packet Ovvero abbiamo avuto questa idea super figa Pensiamo di volerla realizzare Quindi vogliamo mettere in piedi una start-up Però non abbiamo minimamente idea Di chi sono i clienti e a cui vogliamo rivolgerci Cioè non abbiamo individuato qual è la utenza Alla quale vogliamo andare a proporre questo prodotto Questo servizio, quello che stiamo andando a risolvere Come possiamo capire se ci troviamo proprio in questa modalità In questo mood sbagliato Quando iniziamo a parlare in questo modo E quindi faccio dire frasi di questo tipo Il nostro target sono tutti gli clienti con una connessione all'internet E questa è una cosa che mi è capitato di sentire sul servizio Tutto quello che è su queste slide Sono frasi che ho preso da esperienze reali Beh, è abbastanza ovvio che una persona che dice una cosa del genere Sta sparando nel mucchio Significa che non è riuscita ad individuare Qual è in realtà una nicchia alla quale lui sta puntando E che saranno gli utilizzatori del proprio sistema Del proprio prodotto, della propria azienda Quindi quelli che saranno utenti E poi ci auguriamo potenziali clienti Per essere a cui vendere il proprio prodotto L'altro errore importante Questo l'ha già anticipato il professore Durante la sua presentazione Ed è Sottovalutare il team E cioè, nel momento in cui ci viene questa idea importantissima Che fanno che sia rivoluzionare, eccetera Pensiamo che l'idea sia tutto Cioè che una volta che abbiamo avuto l'idea Questa cosa ci farà svoltare In realtà Quello che spesso all'inizio non si riesce a percepire È che l'idea conta poco o niente In realtà quello che conta è il team E come vi dirà probabilmente anche Augusto Nella presentazione che fa il puntato Ma come vi dirà qualsiasi investitore Con il quale mi auguro Riuscire a parlare di questa vostra esperienza La differenza poi dopo la fa il team Perché potete avere un'idea molto bella Veramente molto molto bella E poi non avere il team per realizzarla E questa idea rimane chiusa in un cassetto Non serve a niente E quindi ci sono frasi come queste Che sono tipiche di all'inizio Di chi magari è appena uscito dall'università Al momento non c'è nessun team Sono da solo Mi capitano spesso di ragazzi Che mi dicono Ho avuto questa idea Voglio fare una start-up Però sono da solo Fare start-up da solo Pensi sia impossibile Prendete la top 25 Delle start-up più di successo Del momento In Silicon Valley Andatevi a vedere i fondatori Non troverete nessun team Formato da una sola persona Il team è necessario Perché quello che nel tempo Appunto servirà di supporto Ci supporta da un lato Ci si aiuta da un lato Durante i momenti di difficoltà E soprattutto Un team dà la sicurezza Anche all'investitore Che sta dall'altro lato Di dire Vabbè Non è una sola persona Se questo domani Si scoccia Abbandona la sua idea Di ho buttato i soldi Portare 3-4 persone Dietro un'idea Di un investitore Dà la sicurezza Questi qui sono un gruppo solido Potranno realizzare Questa cosa Nei prossimi anni Un altro errore Che si può fare Questa in una fase Un po' più avanzata È quello di Non conoscere Il proprio mercato E questo è Abbastanza collegato A quello che dicevamo prima Riguardo al target Quindi agli utenti In quel caso Dicevamo di sbagliare Di non riuscire a capire Quali sono gli utenti A cui vogliamo Andare a vendere Il nostro prodotto Cosa significa invece Non conoscere il proprio mercato Significa che ci stiamo Buttando all'interno Di questo mondo Vogliamo fare un'azienda Vogliamo fare Vogliamo fare start up Però in realtà Non sappiamo Nel nostro settore Chi sono gli attori Che ci sono All'interno del proprio mercato Quali numeri Fa questo mercato Quindi in realtà Non abbiamo visto Minimamente Dove andremo a calarci In che tipo di realtà Andremo a calarci È una frase tipica Infatti Da pitch Da presentazione Sbagliatissima È dire All'investitore Non abbiamo competitor Questa è una delle cose Più gravi Che si possa dire All'investitore Se ce la avete In questo slide E dovete presentare Oggi per me Ci togliete la subito Questa cosa Perché altrimenti A gusto di ammazza Perché non abbiamo Competitor È molto grave Molto grave Perché significa Una di queste due cose Significa che O non siete stati in grado Di trovarli Perché i competitor Ci sono sempre Non siete stati in grado Di fare un'analisi Non avete la capacità Di fare un'analisi Non avete trovato il competitor Oppure significa Che effettivamente Non ci sono Ma perché quel mercato Non esiste Quindi vi state buttando In una cosa Che potenzialmente Non interessa a nessuno Se non ci sono competitor Ci sono aziende Che realizzano quella cosa Perché ovviamente Quel mercato Non esiste Un'altra cosa Che fanno sempre Gli startup E all'inizio È tralasciare L'analisi dei bisogni E cioè Si ha questa idea In mente E si ci butta Subito sparati Nella realizzazione Questa è una cosa Che fanno soprattutto I tecnici I founder Come me Quelli che vengono Da informatica Da ingegneria E così via Soprattutto magari Se si tratta di software E così via Abbiamo un'idea Però per il computer Ci mettiamo a programmare Senza rendersi conto Che in realtà Prima di passare Alla realizzazione Vera e propria Di un prodotto Ci vorrebbe una fase Nella quale Si mette a tavolino Con carta, penna Un computer E qualche amico E ragione effettivamente Che questa idea Che abbiamo avuto È possibile Realizzata in un prodotto E soprattutto Se c'è qualcuno Che ha veramente Il bisogno Di questo prodotto E una cosa Che è figa Solo nella nostra mente Ma in realtà Praticamente Non interessa a nessuno E beh E loro di questo tipo Si possono riconoscere Quando iniziamo A fare ragionamenti Di questo tipo E tipo In assoluto Il bisogno Che i clienti Non sanno ancora Di avere Questa la chiamo La sindrome Da Steve Jobs No? Perché Quando pensiamo Di essere la nuova Apple E quindi dire No, no Ma lo so Che questa cosa Che sto facendo Adesso Non interessa a nessuno Però è talmente bella Che quando la metterò Sul mercato Quella lavorano tutti quanti La lavorano a comprare Tutti quanti Beh Di Steve Jobs Ovviamente Di Apple E di iPhone Ce n'è solo uno Nella maggior parte Dei casi C'è un altro 99% Dei casi La realtà è più diversa È necessario analizzare Prima il mercato Vedere se qualcuno Ha veramente bisogno Di quello che state facendo voi E poi buttarsi All'interno Dell'avventura E molto legato A questo Al precedente errore È quello di trascurare Il business model E cioè Ci si dimentica Che fare start up Significa fare impresa Ci si dimentica Che quindi Stanno facendo Gli imprenditori E quindi L'obiettivo principale Dei vostri aziende È fare soldi Perché mi auguro Che lo state facendo Perché Potete fare soldi Altrimenti Non so dove Dove avrete Nei prossimi anni E quindi C'è qualcuno Che con la sua idea Super figa Ti dice cose del genere All'inizio No ma Io per adesso Non sto pensando A come guadagnare Perché fare ricavi Non è il nostro Obiettivo principale Fare ricavi non è il nostro Obiettivo principale E questa invece È un'altra Se quella di prima Era la sindrome Da Steve Jobs Questa è la sindrome Da Instagram E cioè Quella moda Che c'è negli ultimi anni Soprattutto in Silicon Valley Di pensare Che basti fare un'app Che fa milioni Di download Milioni di utenti E questo significa Automaticamente Fare Avere successo E poi dopo Vedo come fare i soldi Nel frattempo però Ho 40 milioni Di download Della mia applicazione Anche in questo caso Di Instagram È l'eccezione Sono rari i casi Di quali aziende Senza un business model Chiaro Riescono ad avere successo Nel secondo momento La realtà di fatto È ben diversa Dovete sapere Fin dall'inizio Come andrete a guadagnare Con la vostra azienda Qual è il servizio Il prodotto Che andrete a vendere E a quali venti Lo andrete a vendere Un altro Errore tipico Qual è? Se siete qui A questo evento E magari dopo Volete parlare pure Con Augusto E con gli investitori È quello di puntare Tutto sull'investimento Chi è Alle prime Alle prime esperienze E sente dire Questa cosa Che ci sono questi folli Che vi danno 2-3 milioni Nella vostra idea Questi pazzi Che regavano soldi Solo perché Ho avuto un'idea interessante Può pensare Che l'investimento Sia un punto di arrivo E in realtà L'investimento Quando c'è Non è altro Che un punto di partenza E non dovete Lavorare La vostra idea La vostra presentazione Con l'obiettivo Di arrivare all'investimento Prendere questi milioni E buttarvi in tasca Questi milioni Se quando arrivano Servono in realtà A un punto di inizio Per poi realizzare La vostra idea La vostra idea E quindi Come ci si accorge Se uno sta per commettere Un errore di questo tipo Quando nelle presentazioni Nei discorsi Fa continui Riferimento All'investimento E quindi si sparano Cifre enormi Di questo tipo Faremo il 70% Dell'investimento Lo utilizzeremo In un'attività di marketing Quindi Senza avere Una minima idea Di come in realtà Andare A A prendere Gli utenti Come vendere il prodotto Come guadagnare Un altro Un altro errore Tipico che si fa Questo è legato Alla prima Slider Quello dell'innamorarsi Della propria idea E' quello di Ignorare i feedback Ignorare i feedback Cosa significa? Quando Iniziamo a parlare Della nostra idea Ci siamo convinti Che è importante Parlarne con altri E poi Poi arrivano le persone Che ti iniziano A dire le cose Che non convincono Della tua idea Ti dicono Gli errori Quello che non va E noi ci mettiamo In questa modalità Scudo E diamo sempre La colpa agli altri Quindi No, no, no Ma vedi che sei tu Che non hai capito Come funziona Perché Quella è un'altra cosa E quindi rispondiamo A tutte le domande Tutte le obiezioni Che ci vengono fatte Sempre Con questo approccio C'è dire La colpa E della persona Con questo parlare Che non ha capito Quello che voglio fare Quello che voglio Realizzare In realtà poi I feedback negativi Penso che siano Una cosa Più importante Che vi possa capitare Durante questa esperienza Da start-up E nel motivo Per il quale Ho parlato qui Degli errori Capirete che Le pacche sulle spalle Le persone che vi diranno Se te è veramente bello Ce la farai Non vi sono utili Non vi serviranno A capire dove state andando Se stanno andando In la giusta direzione In realtà quando arrivano Feedback negativi Dovrebbero essere presi Come oro Colato E tornare a casa E dire Cavolo Effettivamente Mi ha detto quella cosa Fa amici ragionare Perché è chiaro che Finché sono con i miei soci Sei con i due Tre amici Con i quali Ha avuto l'idea Allora sei lì a chiacchierare Ed è sempre tutto molto fitto Ma siamo bravissimi Sì confievo Sono bravissimi Ah perché ce la cantiamo E ce la suoniamo Tra di noi Siamo sempre tutti Quanti bravissimi Poi ci apriamo al mondo E appena diciamo L'idea Qualcuno Questo ci fa magari E tornare a casa Mettersi con carta e pena E diciamo C'è qualcosa Deve vedere all'interno Della mia idea Andando un po' più avanti Nella fase Di sviluppo di una certa Ma c'è un altro problema Verso la fine Siamo all'eurore numero 9 Ed è sottovalutare La execution La execution È la realizzazione No? In termini inglesi Della realizzazione Quindi ok Abbiamo questa benedetta idea Abbiamo fatto il pitch Magari abbiamo preso pure i soldi Dall'investitore E poi però dobbiamo Dobbiamo realizzarla Ok? E molti si dimenticano Perché poi c'è questa fase Di realizzazione Perché magari Ti sei concentrato sul pitch Ti sei concentrato Di convincere l'investitore E hai beccato pure un milioncino Pensi di avercela fatta E poi Tenesci qualcosa di questo tipo Tu sei fuori dal mondo E quindi dici Ma questo ha idea Di cosa sta facendo Dove si sta buttando Che tipo di prodotto Sta realizzando E soprattutto se Si è fattibile Quindi ci sono anche persone Che al giorno d'oggi Cercono di diventare I social network Provo per fare un esempio estremo Ok? Quindi si buttano Si lanciano in queste avventure Folli Senza avere l'idea Di quanto sia Effettivamente poi Difficile E fattibile Appunto la realizzazione Del progetto Sul quale stanno lavorando E l'ultimo Che appunto In questa immaginaria Timeline Che abbiamo visto È quello di Misurare le valid matrix Quindi finalmente Abbiamo anche realizzato Il prodotto E cosa facciamo? Le valid matrix Diciamo così Le metriche di vanità Che vorremmo chiamarle In italiano Sono tutti quei numeri Che guardiamo Per convincerci Che le cose stanno andando bene Ok? Sono quei numeri Che raccontiamo Anche all'esterno Per convincerci Che le cose stanno andando bene Che però in realtà Non significano niente E quindi significa Che abbiamo perso il focus Ci stiamo concentrando Sui numeri sbagliati Solo perché Sembrano belli a noi O perché vogliamo Renderci belli con gli altri E quindi Quindi se una persona Inizia a dire Cosa di questo Dico È sospetta Facciamo più di 5.000 visite al giorno Ma lì possiamo metterci pure 10.000 100.000 Non è il numero che è il punto Il problema lì È parlare agli altri Delle visite Una persona che Vi racconta Delle visite Che fa sul suo sito In realtà Non ti sta dicendo Quanto di quelle visite Si trasformano poi In utenti registrati E quindi Nel passo successivo Quanto di quegli utenti registrati Riesce poi a trasformare In clienti Ok? Quindi I numeri interessanti Lì sarebbero parlare Di 20 paganti Quindi dimmi Quante revenue fai Quanto guadagni Al mese Quella tua azienda Dici quanti Iscritti c'hai Dimmi Quante persone pagano Per il tuo servizio E ci si concentra invece Sui numeri che A noi sembrano belli Perché stanno crescendo Ma in realtà Questo nel tempo Poi porta al fallimento Perché nel frattempo Ci sta sfuggendo Che magari Qualcos'altro non è andato Quindi facevamo tantissime visite Sul sito Ma nessuno pagava Per il nostro prodotto Ed è per l'ultimo Ho finito Mi lascio sempre Un gioco Grazie Grazie Grazie